Allora, mi stia bene a sentire. Io ho un campo, l'è pieno di baracche fatiscenti, delle liti di navi spaziali, pezzi di meteoriti. Ora io volevo dargli una bella spianata. Mettici della terra e facci un pratino all'inglese. Lei che può venire con una ruspa? Che m'ha sentito? Dicevo che può venire con una ruspa. Eh? Certo. Oh, via, bene. Fra l'altro l'ho rimessa a nuova completamente. Ho messo i cingoli nuovi ma è costato una fortuna. Però prima mi deve dire quanto vengo a spendere per questo lavoro. Allora, si sta parlando di un campo rom, credo di aver capito. No, un campo. Senza rom. Come senza rom? Senza rom non la muovo nemmeno la ruspa. No, via, vengo a dargli una spianata e la pago bene. Senta, facciamo così. Lei trova il modo di metterci rom e io il lavoro glielo fa anche gratis. Mi voglio rovinare.